Luca, qui è un disastro. Cosa facciamo? Arrivo! Prima di tutto sistemiamo questo frigo. Con queste pere che stanno marcendo, facciamo succo con cottura a bassa temperatura. Grazie a tutti. Giustare la spesa in modo corretto ed efficace è importante per evitare gli sprecchi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.